Due aggressioni, due persone ferite in modo grave, due episodi slegati tra loro che fanno scattare l'emergenza nel ponente genovese. Il primo, in ordine di tempo, si consuma nella serata di giovedì 5 gennaio fuori da un circolo di via Certosa. Mancano pochi minuti alle 20 e un albanese di 37 anni viene colpito, pare con un manganello telescopico, da due persone che poi si allontanano. Riporta diverse fratture, ma non rischia la vita. Tra i residenti poche testimonianze e una lamentela legata alla presenza dei circoli tra le case. Il secondo episodio è più grave e accade all'alba del 6 gennaio in un locale di via San Pierdarena. Scoppia una rissa a farne le spese con una coltellata che perfora il polmone e una ragazza italo-colombiana di 19 anni. Viene ricoverata all'ospedale Villa Scassi in gravi condizioni. È in coma farmacologico. Sullo sfondo un altro episodio, tutto da chiarire, avvenuto in via Rivarolo sempre nella notte con due stranieri feriti a colpi di manza. Risse, regolamenti di conti che si intrecciano, Genova si scopre ancora una volta violenta.